È stata attiva nel cinema italiano fra il 1959 ed il 1965 come caratterista, impegnata talvolta nel cinema d'autore, dopo aver lasciato le scene a metà degli anni 60 e tornata poi a recitare nel 1999 in un film, di Pasquale Fanetti intitolato L'ultimo volo che però non ha avuto distribuzione. È scomparsa nel 2012 all'età di 81 anni.